Amici dell'Orient Tiring, benvenuti! Feltre e Belluno questo weekend, l'arco agli uomini veloce, gara sprint e l'inedita e bellissima knock-out! Stiamoci in questa grande giornata! E dopo la gara sprint andiamo a ascoltare gli uomini d'alta classifica. Non è facile navigare, con alcuni passaggi larghi, sì, ma è interessante! Sono molto contenta perché naturalmente vincere con Giacomo è molto bello. Qualche punto un po' particolare, dove forse mi ha aiutato anche la preparazione nel trail durante questo inverno, mi ha aiutato ad andare sicuro e concludere una buona gara. Oggi lepre! Sì, oggi ho fatto la gara più lunga di tutti gli altri, correre dietro con la telecamera. Mai più! Vedremo stasera! Quante foto oggi? Ogni fotografia 100 mila. Come sempre te le ruberemo. Hai ragione, poi se la tolgo. Faccio beneficenza. Quante foto? Oh, io le ho fatte tre. 300 mila. Eh, spero abbastanza. Sembra niente, ma la mia fondana è fotografata un migliaio di volte al giorno. Verso gli ultimi punti i ragazzi hanno sbagliato e allora hanno approfittato facendo le scelte giuste. I punti a scelta, non so, hanno fatto tutti diverso da me. Ho visto che c'era la medaglia del secondo posto appena lì davanti. Ti vai, cuori, cuori. Arrabbiato. Senza parolacce. No! Eh, infatti le sto lasciando passare tutte. Un diavolo per capelli. Lascia passare altri dieci secondi. Ma non sai che mi vergogno? Da Belluno è tutto? Sì. Ciao! Ciao!